benvenuti a questa eh nuova diretta del eh lunedì pomeriggio eh in realtà poi non ho ancora deciso se eh la farò sempre il lunedì o il martedì devo ancora decidere in realtà eh oggi la faccio eh un problema ehm dicevo io credo che ehm la 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 proverò proverò sia eh il lunedì che il martedì e poi a seconda di come andrà a finire eh deciderò se mantenerla eh che giorno mantenerla perché poi una volta deciso che eh sarà o il lunedì o il martedì poi sarà sempre quello sarà sempre tutti i giorni tutte le settimane eh lo stesso giorno eh per ora eh la sto facendo lunedì la settimana prossima la farò di martedì poi magari quella dopo ancora di lunedì poi deciderò e arriverò ad un punto ehm io eh inizierei a rispondere alle domande che mi sono già arrivate via email eh ce ne sono due ricordatevi che se mi mandate le domande via email prima che io vada in diretta poi inizio a rispondere da quelle serve per avere la precedenza nelle risposte l'email è info chioccio la marco caviglioli punto it ve l'ho messa in in descrizione. Allora la prima domanda che è arrivata via email è questa. Pensi che a lungo termine l'avvento dei player istituzionali possa inficiare la decentralizzazione in termini di manipolazione del prezzo? Ok. Allora tenete presente che stiamo parlando specificatamente di prezzo perché eh il discorso per quanto riguarda invece proprio la gestione del protocollo bitcoin e delle delle transazioni eccetera a mio parere non viene influenzata dall'ingresso degli istituzionali e ricordatevi che quando si parla di investitori istituzionali non si parla delle istituzioni ma semplicemente dei grandi investitori cioè di quelli che non è che ci mettono qualche centinaio di migliaio di dollari o qualche milione ma quelli che ci mettono i miliardi. E secondo me eh l'ingresso di questi istituzionali come potrebbero essere BlackRock anche se BlackRock non è un investitore ma è un fornitore di servizi gli investitori sono quelli che comprano le azioni delle TF di BlackRock questi istituzionali a mio parere non intaccano la decentralizzazione del protocollo di bitcoin e delle transazioni del mining eccetera. E però il discorso cambia se parliamo di eh manipolazione del prezzo perché il problema è che quando c'è qualcuno che è in grado di ehm non solo possedere ma soprattutto mettere sul mercato enormi quantità di bitcoin di colpo cioè in breve tempo quello può inficiare sul prezzo negativamente nel senso che può farlo scendere molto. Eh io vi faccio vedere questa pagina eh eccola qua perché eh in in questa pagina al fondo c'è una bellissima grafica dei maggiori detentori di bitcoin al mondo vedete? Eh qua manca in realtà il più grosso detentore di bitcoin al mondo che è Satoshi Nakamoto per il semplice motivo che non si ha la certezza non si ha la certezza eh che si dice che Satoshi Nakamoto possieda circa un milione centomila bitcoin però ce li ha su un numero di indirizzi enorme perché lui ogni volta che incassava che minava un blocco e incassava i cinquanta bitcoin usava un indirizzo diverso e quindi non è stata compresa in questa non è stato prempreso in questo elenco anche perché probabilmente eh è morto e scomparso e quindi non non fa operazioni e come vedete in questo momento eh in realtà l'unico grande ente sarebbe Grayscale che però sta diminuendo è perché ne sta vendendo sempre di più questo è l'ETF di Grayscale e però vedete non c'è un netto predominio quindi non siamo in una situazione in cui un'unica un unico ente in questo momento può davvero fare il bello e il cattivo tempo però capite che con tutti quei bitcoin quando vendono potrebbero creare problemi ad esempio in questi giorni che il prezzo bitcoin è sceso può darsi che un ruolo importante lo abbiano avuto le liquidazioni proprio di Grayscale perché Grayscale eh adesso ha circa cinquecentosessantasei mila bitcoin ma in realtà oggi sembra che ne abbia liquidati altri diciannovemila quindi dovrebbe essere a cinquecentoquarantasette mila bitcoin però ne aveva seicento e ventimila quindi ne ha già liquidati eh praticamente quasi ottantamila quasi ottantamila bitcoin che sono tantissimi eh però è facendo un po' scendere il prezzo perché li ha liquidati abbastanza eh in fretta ehm io credo che l'ingresso di questi istituzionali aumenti un pochettino il rischio che possano far muovere il mercato eh il prezzo io non parlerei però di manipolazione nel senso che manipolazione è quando tu fai scendere il prezzo per comprare oppure lo fai alzare per vendere quando tu invece vendi e fai abbassare il prezzo oppure compri lo fai acquistare o lo fai salire quella non è manipolazione normale ehm dinamica di mercato quella in atto adesso non è manipolazione grayscale deve vendere per forza di cose perché gli etf sono così se vendono gli azionisti bisogna vendere anche per forza di cose il collaterale eh e quindi non è che sta manipolando il prezzo lo sta facendo scendere perché c'è una maggiore eh pressione di eh di vendita c'è un'altra domanda però via email poi passiamo a quelle invece eh che stanno arrivando eh in chat ehm dice la cosa che non mi è chiara è che se la maggior parte degli investitori stanno andando via da grayscale per passare a black rock e agli altri etf e dalle quantità vendute eh giornalmente sono tanti perché grayscale non abbassa le fee eh ai parametri almeno di black rock e questa è una bellissima eh domanda ha perfettamente senso allora sappiate che di tutti gli etf che ci sono in giro su black coin su bitcoin grayscale è quello più grande quello con più bitcoin e anche uno di quelli quelle fee più eh elevate tenete presente che grayscale eh esisteva già perché il fondo di grayscale esiste dal 2013 quindi da 11 anni e fino all'altro giorno fino al 9 di gennaio non era un etf poi il 10 gennaio è stato provato ed è diventato un etf quindi prima quando non era un etf potava permettersi delle fee molto alte se non sbaglio le commissioni sono dell'1,5 per cento all'anno sono altissimi e molto probabile che molti di quelli che stanno vendendo ehm azioni dell'etf grayscale magari per comprare azioni degli etf di black rock o fidelity o eccetera gli altri lo stiano facendo perché invece black rock fidelity eccetera hanno fee molto più bassi se non ricordo male 0,20 0,30 per cento all'anno rispetto a 1,5 per cento quindi elevatissimo allora eh la domanda giustamente è ma perché questi qua di grayscale continuano a mantenere le commissioni così alte eh al posto che a passarle e cercare di evitare che la gente venda eh le azioni del loro etf secondo me lo fanno di proposito cioè io mi sono fatto questa idea secondo me hanno accumulato nel corso del tempo troppi bitcoin cioè eh riguardiamoci di nuovo quel questo grafico cioè guardate questo è grayscale ok cioè andiamo a vedere andiamo a vedere eh micro strategy guardate guardate quante ne ha micro strategy e quante ne ha eh grayscale eh è davvero mostruoso questo dato cioè diciamolo chiaramente ne ha acquisiti troppi perché perché nel 2021 c'è stato il boom clamoroso gli etf su bitcoin spot non c'erano negli Stati Uniti c'era solo questo eh grayscale questo fondo di grayscale che non era un etf non c'era in borsa si poteva comprare solo eh otc e c'è stata tantissima domanda e loro hanno comprato eh per forza di cosa hanno dovuto stare dietro al mercato ma hanno comprato troppo in questo momento a loro non conviene secondo me avere dover gestire tutti quei bitcoin tenete presente che non li hanno loro eh non sono di proprietà loro loro li gestiscono come collaterale eh dell'etf che è un fondo ma i proprietari del fondo sono gli azionisti quelli che comprono le azioni in borsa quindi loro hanno una bella responsabilità io direi assolutamente eccessiva quindi secondo me molto molto ehm sono molto contenti di eh liquidare un sacco di bitcoin magari sperano anche che prima o poi eh il l'etf di blackrock li superi tanto tanto lo farà perché l'etf di blackrock è il più grande che c'è blackrock è il più grande gestore patrimoniale del mondo e quindi molto banalmente io credo che fino a che non avranno non si saranno liberati di tutta questa montagna di bitcoin manterranno eh volontariamente le fie alte perché ci guadagnano tanto con le fie alte ovviamente eh e eh si scaricano di un pochettino di responsabilità poi a un certo punto ovviamente non gli converrà più e quindi dovranno abbassare perché altrimenti se perdono troppo poi ci guadagnano troppo poco ok se perdono troppi eh troppi azionisti eh quindi molto probabilmente eh non adesso ma a un certo punto inizieranno a diminuire e prima o poi arriveranno i linee con gli altri io però ritengo che tutti sui mercati credano che blackrock e fidelity perché blackrock è il primo il più grande gestore patrimoniale al mondo ma fidelity se non sbaglio il quarto ecco loro due si spartiranno la gran parte eh di questi bitcoin in questo momento guardate questo è eh l'etf di eh eh blackrock questo quello di fidelity prima che riesco questi due prima o poi diciamo messi assieme supereranno quello di grayscale ma ci vuole ancora parecchio quindi a mio parere ancora per dei mesi rimarremo su questa eh situazione andiamo avanti con le domande che arrivano via chat o ora io non so se eh nella sessione in questa seconda sessione settimanale di domande del domedì o del martedì farò un'ora non è strettamente necessario quindi andrò avanti con le domande poi se a un certo punto non ce ne sono più eh chiudo la diretta invece la diretta del giovedì sera delle 20 e 30 che rimane sempre quella durerà sempre comunque un'ora perché è quella in cui dovrebbero esserci la maggior parte delle delle persone in realtà in questo momento siete collegati più o meno tanto quanto quelli del giovedì sera quindi eh vuol dire che comunque è un buon orario questo allora andiamo avanti passiamo alle domande via chat che però sono di meno rispetto al solito quindi magari veramente oggi finiamo prima vediamo ehm una cosa che non sono mai riuscito a capire qual è il vantaggio pratico di pagare in cripto il vantaggio pratico di pagare in cripto allora attenzione qua bisogna fare un'enorme distinzione tra le vere criptovalute e le stable coin perché le vere criptovalute come bitcoin e tirium eccetera non sono dei buoni mezzi di pagamento perché il loro valore è troppo volatile e inoltre bitcoin che ha natura deflattiva cioè va verso la deflazione e tirium mi sembra che sia già più o meno deflattivo e non conviene spenderli cioè conviene spendere privarsi delle monete inflattive piuttosto che non di quelle deflattive o con natura deflattiva quindi a mio parere non c'è un reale vantaggio a fare pagamenti in criptovalute però c'è un vantaggio nel farle in stable coin cioè le stable coin quelle in dollari hanno sempre il valore di un dollaro quindi sono l'alternativa ai dollari allora premesso cioè sottolineato che non c'è un vero vantaggio nel pagare in bitcoin e tirium piuttosto che in euro dollari passiamo invece ai vantaggi delle stable coin rispetto alle normali valute fiat il primo vantaggio delle stable coin è che le transazioni in stable coin non possono essere in alcun modo limitate bloccate o annullate questo per noi magari può sembrare una cosa di po scarsa rilevanza invece ci sono dei dei luoghi delle persone eccetera che invece per i quali questo invece un vantaggio molto importante perché hanno problemi ad effettuare transazioni in valute fiat mentre invece in stable coin no ad esempio se volete spostare dei fondi da un exchange all'altro fatelo in stable coin non in valuta fiat non incassate valuta fiat su un conto carente bancario e poi li mandate ad un altro exchange gli spostamenti tra exchange si fanno o in criptovalute o in stable coin ok e per quanto riguarda i pagamenti per l'appunto non tanto i piccoli pagamenti quotidiani ma quando uno fa pagamenti un po' importanti magari internazionali le stable coin convengono anche perché ad esempio se tu fai un pagamento in usdt magari non su ethereum ma su arbitrum optimism o tron hai delle commissioni che sono ridicole molto inferiore a quelle che pagheresti se facessi un trasferimento di denaro in valuta fiat e poi c'è ovviamente un altro vantaggio che va detto ovvero che dato che tutte le criptovalute sono anche gestibili in maniera non custodia cioè in maniera totalmente personale c'è chi le usa per nascondersi alle autorità cioè per fare delle transazioni che non vengano carpite dalle autorità ovvio che se poi chi fa delle transazioni in stable in in criptovalute passa attraverso un exchange centralizzato a quel che vuoi sì cioè con la verifica dell'identità perde completamente tutto quindi chiunque di noi utilizzi degli exchange con la verifica dell'identità queste cose non le può fare perché tanto alla fine si risale invece c'è chi gestisce anche alcune alcuni portafogli alcuni wallet non custodial che vengono nascosti alle autorità. Andiamo avanti altri vantaggi non è che ne vedo molti dall'utilizzo delle stable call per fare pagamenti ok? Andiamo avanti. Allora quando pensi possa ritracciare bitcoin nel prossimo bear market un possibile bottom e questo proprio non lo so perché io faccio molta fatica a immaginare da dove partirà il prossimo bear market perché il bottom dipende da quello mi spiego noi però fino ad oggi abbiamo avuto tre grande bull run tutte e tre dopo l'alving tutte tre seguite da un bear market in tutti e tre bear market il bottom è stato a meno 85% dal massimo nei primi due casi 2013-2017 o da quello che avrebbe dovuto essere il massimo cioè nel 2021 il massimo fu 70.000 ma in realtà avrebbe dovuto essere 100.000 quindi nel 2013 arrivò a 1.100 dollari e poi scese dell'85% nel 2017 arrivò a 20.000 dollari poi scese dell'85% e nel 2021 arrivò a 70.000 ma avrebbe dovuto arrivare al 100.000 e scese dall'85% da 100.000 quindi io non so dire quale sarà il possibile bottom perché secondo me potrebbe essere il meno 85% dal massimo che non so dire quale sarà. E secondo te quando potrebbe iniziare il prossimo bear market? Allora tenete presente che in genere i massimi bitcoin tocca a fine anno novembre dicembre c'è stato mi sembra un unico caso in cui era al 31 di ottobre comunque dopo che tocca i massimi parte il bear market. Il bear market può essere più o meno lungo anche il bear market in genere è lungo circa un anno ad esempio l'ultimo è durato un anno preciso e quello prima era durato un anno quello invece ancora prima era durato un anno e tre mesi mi sembra un anno due mesi come qualcosa in più quindi quando ci sarà il prossimo grande bull run e il prezzo probabilmente a fine anno che sia il 2024 2025 non lo so andrà magari molto in alto e poi inizia il bear market perché poi queste sono vere e proprie bolle bolle speculative e quindi non bolle che distruggono completamente l'asset una volta che scoppiano ma semplicemente che prevedono una forte eh ascesa ingiustificata scoppiano e il prezzo scende e quel quella discesa è il bear market. Eh è possibile investire in oro fisico restando nelle cripto? No nel senso che puoi acquistare dei token che sono collateralizzati in oro ok? Ma non so se questo risponda alla tua domanda ok? Eh però fate attenzione perché eh i token collateralizzati in oro voi non non è che siete proprio certi 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 che ci sia tutto l'oro dietro e soprattutto l'importante è che se voi date indietro il token vi diano indietro l'oro io so che tether gold è così cioè voi potete andare là gli date vabbè gli date i token e poi andate a ritirare proprio l'oro però dovete andare là fisicamente però sì ok? Eh hai saputo altro su quello che dovrebbe annunciare Paypal? No eh giovedì Paypal il CEO di Paypal ha detto che farà un annuncio clamoroso che scioccherà il mondo niente non non sta trapelando niente per quanto io ne sappia non ho visto nulla di interessante eh faccio anche un po' fatica a immaginare che l'annuncio davvero scioccherà il mondo perché se l'annuncio davvero scioccherà il mondo forse non lo avrebbe detto prima vabbè eh io sono un po' dubbioso però magari vediamo perché sono Paypal eh di cose interessanti ne ha fatta eh quindi cioè non ne sono gli ultimi arrivati quindi potrebbe davvero annunciare qualche cosa di importante cosa ne pensi dell'RWA e quali progetti sono più promettenti secondo il tuo parere allora RWA sta per real world asset cioè in poche parole la tokenizzazione di asset reali tangibili ok o comunque diciamo esistenti per conto loro eh io credo che la tokenizzazione dei 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 real world asset cioè degli RWA potrebbe essere uno dei trend principali insieme all'intelligenza artificiale della prossima Bulleran ora se la prossima Bulleran dovesse essere già quest'anno forse prevarebbe l'intelligenza artificiale se sarà l'anno prossimo invece forse prevarranno i real world asset eh fate molta attenzione perché quando un asset viene tokenizzato e vengono venduti token questa cosa ha senso solo se chi compra il token compra a tutti gli effetti un pezzo di proprietà di quell'asset se invece non è così faccio un esempio se io faccio un'opera d'arte fisica un quadro no? Beh non io che non sono capace ma è un'ipotesi ok? E poi ne vendò le NFT ecco quella NFT non è la proprietà del quadro ok? E' un NFT quindi io non sto comprando il quadro ok? Quindi quella NFT ha un valore che magari magari non ha valore ecco fate attenzione alla stessa cosa perché quando qualcuno vi vende degli asset tokenizzati vi sta vendendo un token se quel token non è a tutti gli effetti una certificato di proprietà dell'asset allora voi non sapete se state comprando qualcosa di valore cioè se viene tokenizzato un immobile che ha un valore di mercato e l'insieme di tutti i token emessi corrispondono al 100% della proprietà dell'immobile allora il vostro token rappresenta una porzione di proprietà di quell'immobile quindi anche del suo valore se invece non è così cioè se l'immobile magari rimane di proprietà di chi emette il token e chi emette il token semplicemente emette dei token vi fregano cioè magari proprio sfruttano una bolla speculativa di un anno per incassare un sacco di soldi e poi vi trovate col cireno in mano cioè con un token che non ha un vero valore quindi fate molta attenzione io in questo momento non so citarvi un progetto davvero promettente in questo campo perché non sono un esperto di questi rva e in questo momento non mi sono ancora imbattuto in un progetto che da questo punto di vista ritengo interessante o promettente probabilmente ci sono ok io non ho approfondito solo dico dico quello andiamo avanti ah ci giustamente qualcuno che dice che Nakamoto è morto non è morto io sostengo che Nakamoto sia morto ma vi spiego il perché cioè ma davvero uno che mina un milione centomila bitcoin e poi smette perché ha smesso ha smesso nel 2010 che lui in due anni 2009 2010 ha minato un milione centomila bitcoin e poi non li ha mai usati Satoshi Nakamoto non si sa di preciso esattamente quali sono tutti i suoi indirizzi però c'è un sistema con il quale hanno individuato diciamo così una serie di suoi possibili indirizzi e con questo sistema si è scoperto primo che lui in un certo punto ha smesso di minare secondo che non ha mai usato nessun bitcoin minato l'unica spiegazione è che sia morto scusa ma cosa è scemo cioè c'ha e potrebbe essere uno degli uomini più più ricchi del mondo comunque molto ricco ecco e e non li usa non avrebbe senso per carità poi magari ne ha minate degli altri che non sappiamo ecco però io reputo che molto probabilmente sia morto d'altronde ad esempio uno di quelli che potrebbe essere questo è solo un'ipotesi che poi magari non è nudo al fine è morto anche un altro Dave Kleinman è morto quindi diciamo che due dei maggiori candidati sono effettivamente morti ok quindi secondo me a questo è un altro utente che dice secondo me più ne vendono adesso più alzerà il prezzo poi questa è un'ipotesi che secondo me è molto interessante perché io l'ho letta anche fatta da altri cioè molti sostengono che visto che in questo momento Grayscale sta liquidando tantissimi bitcoin ma il prezzo non scende sotto i 40.000 dollari significa che probabilmente quando Grayscale finirà di venderne così tanti perché però poi finirà e secondo me finirà prima dell'albing perché ho fatto i calcoli secondo me potrebbe andare avanti così massimo due mesi due mesi e mezzo ok e quindi prima dell'albing dovrebbe finire se gli altri tf invece continueranno a comprare perché non è che tutti i bitcoin che vengono liquidati da Grayscale finiscono in negli altri tf nel senso in quantità sì in questo momento è quello che sta capitando ma non sono le stesse persone che chi vende chi compra sono le stesse persone quindi io credo che gli altri tf potrebbero continuare ad andare avanti a comprare quindi quando Grayscale finirà di vendere tanto e gli altri tf probabilmente continuano a comprare il prezzo potrebbe alzarsi tranquillamente perché gli altri tf ne stanno comprando tantissimi eh cioè non dimentichiamoci andiamo sempre a dare lo schermino di prima non dimentichiamoci che l'etf di BlackRock ha comprato 33.000 bitcoin in una settimana e mezza e i fideliti 30.000 bitcoin in una settimana e mezza ok questi due da soli hanno fatto 66.000 63.000 bitcoin in una settimana e mezza e quindi direi che a questo ritmo ok andiamo avanti ok secondo te i cicli di mercato continueranno ad esistere? Ah questa è una bellissima domanda allora io credo di sì però attenzione prima vi spiego perché sì e poi vi dico perché attenzione credo di sì perché i cicli di mercato di bitcoin sono dettati dall'alvi di bitcoin e l'alvi di bitcoin rimarrà rimarrà fino al 2140 circa ok quindi per più di cent'anni quindi a noi sinceramente se tra cent'anni non ci saranno più probabilmente non ce ne frega niente eh prima o poi l'alvi non ci sarà più e quindi eh smetteranno di esserci questi cicli di mercato c'è anche da dire però che tra magari non questo alvi forse non il prossimo ma da quello ancora dopo e l'impatto dell'alvi sarà minore quindi magari eh diventeranno sempre meno evidenti e questo era il motivo per cui vi dicevo attenzione cioè io credo che i cicli di mercato eh quelli di bitcoin continueranno ad esistere finché l'alving avrà un un impatto significativo io credo che ancora questo avrà impatto significativo forse ancora al prossimo dal duemila e trenta due in poi potrebbero iniziare a ridursi un pochettino eh però attenzione perché potrebbero avere una durata differente cioè questo ciclo di mercato potrebbe aver anticipato di un anno quello solito ok perché eh l'alving non avviene una volta ogni quattro anni ma una volta ogni tre anni e dieci mesi in media e quindi potrebbe esserci qualche cosa di eh grayscale continueranno a vendere io credo che per un po' continueranno a vendere eh proprio perché hanno necessità di scaricare un sacco di bitcoin cioè io non vorrei dire ma questo quadrato qua deve almeno dimezzarsi almeno e quindi a questo ritmo chissà per quanto tempo dovranno ancora vendere però non continueranno a vendere tanto per tanto tempo cioè io sono dell'idea che da qui a fine marzo o massimo 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 metà aprile ma è più probabile fine marzo smetteranno almeno di vendere così tanto perché quello che conta non è che vendano cioè se vendono mille bitcoin al giorno fa lo stesso il problema è che questi ne vendono diecimila quindicimila ventimila al giorno ok quando torneranno alla normalità eh molto probabilmente le cose cambieranno e questo ritorno alla normalità quindi con eh grayscale che smette di fare queste vendite così cospicure dovrebbe arrivare a mio parere entro la fine di marzo o al massimo entro la metà di aprile eh ecco se è qualcosa di questo rva hondo e hondo è quello di cui credo si parli un po' più di tutti in questo momento io non ho ancora approfondito però per chi è interessato agli rva credo che il progetto da andare a studiare è hondo eh ce ne sono anche altri eh però eh questo è quello di cui si parla di più e quindi sembrerebbe essere quello che in questo momento potrebbe avere un maggiore impatto nel caso in cui eh iniziassi un trend ok eventuali prossimi massimi secondo te allora e dipende da cosa intendi per prossimi io farei eh prenderei come riferimento tre diciamo così eh date ok primo è l'albing secondo è il post albing secondo e terzo è il fine anno primo è l'albing tenete presente che se dovesse fare come gli anni come le volte scorse il prezzo all'albing dovrebbe arrivare a trentacinque mila dollari quindi io non mi aspetto che all'albing ci arrivi eh con nuovi massimi cioè ricordate che il massimo di quest'anno è stato fatto il giorno del lancio l'undici di eh di gennaio del lancio degli etf eh a quarantanove mila dollari io sinceramente non è che mi aspetti qualche cosa di tanto meglio prima dell'albing però magari potrebbe anche farlo poi però c'è il post albing attenzione attenzione però perché l'albing inizia ad avere effetto qualche mese dopo quindi dovremmo aspettare forse luglio a agosto eh agosto è sempre un buon mese per bitcoin eh quindi lì potrebbero magari arrivare nuovi massimi eh molto difficile da dire quali e poi c'è il fine anno perché a fine anno solitamente quando il bitcoin performa meglio quindi io credo che a fine anno forse qualche massimo superiore a 50.000 ci sia io non escluderei che entro fine anno faccia di nuovo a nuovo faccia dei nuovi massimi di sempre ok cioè superi 70.000 dollari io non lo escluderei non non è una previsione ok cioè io come al solito io non sono in grado di fare previsione quindi potrebbe andare potrebbe salire potrebbe scendere però io non mi stupirei per niente se entro fine anno superasse i 70.000 dollari toccherà a livello psicologico dei 100.000 dollari così a sentimento tu come la vedi io credo che potrebbe prima o poi andare a 100.000 dollari bitcoin eh non so se quest'anno e non so nemmeno se l'anno prossimo ok quindi tu giustamente dicevi prossimi massimi io i 100.000 divendo un po' distanti in questo momento ok però magari il prossimo anno ci sarà si sa se stanno sanzionando i retail per la mancata dichiarazione nel quadro rv o le plusvalenze non ho avuto informazione a riguardo però attenzione bisogna distinguere le due cose perché per quanto riguarda le plusvalenze tendenzialmente eh l'agenzia delle entrate eh fa i suoi controlli qualche anno dopo quindi noi se non sbaglio nel 2023 abbiamo avuto i controlli sulla dichiarazione di redditi eh del duemila e ventuno eh sui redditi del duemila e venti mi sembra qualcosa del genere quindi dato che la nuova legge è entrata in vigore solo l'anno scorso io non credo che vadano a impelagarsi con controlli su la situazione precedente senza una legge quindi la prima dichiarazione nuova dei redditi quindi con la nuova legge si farà quest'anno bisogna ancora farla quando la controlleranno forse nel duemila e venticinque forse nel duemila e ventisei quindi c'è ancora tempo per quanto riguarda invece la mancata dichiarazione nelle quadro rv è diverso nel senso che lì vanno a controllare a seconda dei movimenti che fate eh e quindi potrebbero in qualsiasi momento cioè se uno fa dei grossi movimenti e gli exchange devono per forza di cose segnalare i grossi movimenti all'agenzia d'entrata e se l'agenzia d'entrata vede dei grossi movimenti e non vede in dichiarazione rv le criptovalute potrebbe venire a controllare subito però io non sono a conoscenza di sanzioni già date quindi forse non hanno ancora iniziato proprio perché troppo presto perché cioè non ha senso andare indagare il passato quando non c'era una legge cioè la prima dichiarazione dei redditi a norma di legge che la nuova legge in italia è quella del duemila e ventiquattra che bisogna ancora fare quindi secondo me arriveranno poi il prossimo anno eh si paga in bitcoin e per usare il netto che supportare i commercianti che lo accettano oltre all'nonimità segura esatto correttamente sì ma non lo fa quasi nessuno cioè anche in El Salvador dove è bitcoin e valuta corso le gare sono persone pochissime persone che fanno questo sì è vero si potrebbe fare così però ok come mai esistono tantissime cripto io ve lo devo dire perché è pieno di truffatori fatemi andare a controllare perché adesso non mi ricordo l'ultima volta che ho controllato quante ce n'erano di cripto ok vi vi faccio una condivisione dello schermo così le vediamo assieme prendiamo coin gecko come riferimento su coin gecko ci sono dodicimila criptovalute dodicimila o che comprese le stable coin per carità a mio parere di quelle dodicimila ce n'è tranquillamente diecimila che sono truffe cioè sono criptovalute che sono state create solo per raccogliere fondi in cambio di niente quindi a mio parere sono truffe cioè quando tu lanci una criptovaluta che ha come uno che ho scopo quello di essere venduta quindi di permetterti di raccogliere dei fondi e non dare niente in cambio quella a mio parere una truffa poi magari formalmente fiscalmente dal punto di vista legale non è una truffa per me lo è quindi purtroppo il numero così elevato è perché sono tantissime le truffe se noi invece al posto che concentrarsi su quel dodicimila andiamo a concentrarci solo sulle criptovalute principali quelle principali sono una cinquantina un centinaio in realtà ne esistono così tante perché esistono tanti progetti diversi che stanno cercando di emergere molti probabilmente faranno una brutta fine alla fine due sono già emersi bitcoin e ethereum altre insomma c'è bnb che comunque hanno perfettamente senso perché è la criptovaluta con cui si pagano le fee su bnb su bsc cioè binance marchain però insomma vedremo ce ne sono alcuni interessanti che stanno avanace interessanti ad esempio però insomma capisci che c'è una bella differenza tra le 50 100 di 50 100 progetti davvero in serie importanti e i dodicimila che abbiamo visto prima spesso sento parlare di airdrop su solana mica mi sai dire a grandi linee come funziona poi c'è un'altra cosa si è praticamente se tu detieni dei sol dei sol cioè delle criptovalute di solana quando fanno gli airdrop ti regalano dei token quei token che ti regalano in teoria dovrebbero avere valore zero e invece a volte hanno un valore quindi tu puoi decidere se tu l'incassi ok sia che hai solana su degli exchange che sono compatibili che accettano quegli airdrop sia che usi il wallet di solana quindi tu ti trovi questi token ok che sono stati airdroppati cioè creati dal nulla e regalati in proporzione a quanti sol hai a quel punto tu puoi decidere di venderli se ci riesci a volte non ci si riesce ma la maggior parte volte ci si riesce e venderli e sperare di incassare qualche cosa oppure tenerli e venderli magari poi e cercare di sperando di guadagnarci un po di più tutto qua poi magari a volte sono airdrop perché sono lanci di token che sanno magari che rappresentano dei progetti magari anche interessanti che ma la voglio in aggiunta i bear market secondo me con i nuovi ingressi degli etf saranno meno marcati anche secondo me ma anche le bullern secondo me con l'ingresso di questi etf attenzione non adesso non è l'ingresso degli etf è con l'eventuale successo di questi etf però c'è il successo ragazzi diciamocelo chiaramente perché stiamo parlando di qualcosa che sta veramente ottenendo dei risultati già 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 adesso ottimi questo probabilmente ridurrà le oscillazioni sia verso l'alto che verso il basso quindi sia il bear market che le bullern pietro chiede come mai sono falliti ma non so cosa non mi ricordo a cosa tu ti si riprendi è vero che se converto bitcoin in pass gold invece che una stable non ci devo pagare le tasse a me risulta così perché pax gold è una stable coin non in valuta fiat ma in oro e quindi non è collateralizzata in valuta fiat quello che conta in italia per pagare le tasse quando tu vendi valute incassando o moneta fiat o delle cripto valute che hanno come collaterale la valuta fiat quindi in questo caso a me risulterebbe che non devi pagare le tasse collegare il proprio wallet a un dex per fare swap quando conviene allora attenzione primo attenzione al dex perché se il dex è su eterium come uniswap uniswap c'è anche su altra rete ok in genere non conviene perché le fi sono altissime quindi conviene se usi un dex che magari si basa su una rete che costa poco tipo arbitrum o magari solana ok o magari non me ne vengono in mente altri bsc ok certo e poi conviene soprattutto quando tu vuoi fare questi swap senza che lasciano una traccia che possa essere acquisita dall'agenzia delle entrate perché i dex non forniscono informazioni all'agenzia delle entrate cioè le transazioni sui dex sono pubbliche però sono anonime tenete presente che lo swap su un dex c'è un problemino tu non è che puoi fissare un prezzo lo fai a prezzo di mercato quindi se tu per caso stai svapando una cifra importante e sei in un momento in cui l'offerta è bassa incasi poco quindi io sono sempre l'idea che conviene piazzare gli ordini di acquisto di vendita con limit cioè con un prezzo limite quindi fate attenzione ok mi raccomando però l'importante sceglietevi di bene per le per le fi e scegliete il momento buono per fare swap e poi insomma come dicevo in genere si usano per perché non c'hanno il che vuoi sì ecco secondo te un token che riguarda la ai dove porre attenzione quale potrebbe essere io in questo momento non mi sento di consigliarne nessuno secondo me tutti i token o le criptovalute che dicono di essere di avere attinenza con l'intelligenza artificiale in questo momento hanno attinenza ma solo vagamente non hanno veramente a che fare con l'intelligenza artificiale quindi fate attenzione io personalmente non mi sento di segnalare nessun caso di criptovaluta che è realmente a che fare con l'intelligenza artificiale al di là di quello che dicono per pura propaganda paypal bloccherà tutti i soldi depositati dei suoi clienti costringendole a convertirli in bitcoin a se non facessero questo come annuncio sarebbe davvero che un annuncio che scioccherà il mondo ma non sarà questo quando ha smesso di minare satoshi nakamoto se non ricordo male o a fine 2010 o a inizio 2011 tenete presente che satoshi nakamoto ha smesso di partecipare allo sviluppo di bitcoin a fine 2010 e ad aprile 2011 mandò un'ultima email quindi non pubblica ma privata dicendo che se ne tirava fuori e se non sbaglio proprio smise di minare in quel periodo o fine 2010 o inizio 2011 però attenzione questa è una stima nel senso che lui usava un certo meccanismo una certa prassi per minare e da quella prassi si è riusciti a risalire i suoi indirizzi però magari ha cambiato prassi e se ha cambiato prassi potrebbe aver continuato a minare ok io lo dico per per correttezza però ricordatevi che tra fine 2010 inizio 2011 il progetto bitcoin era davvero non ne fregava più niente nessuno praticamente il boom ci fu dopo il primo albing dopo il 2012 comunque già all'epoca valevano un po' è il suo milione di bitcoin ho letto la biografia di musk praticamente non parlano mai di bitcoin nonostante i racconti dettagliati secondo te quale può essere il motivo ma io molto probabilmente credo che musk su bitcoin e dogecoin ci abbia fatto soprattutto comunicazione propaganda cioè per ottenere visibilità e probabilmente questa è la mia ipotesi l'idea è stata quella di non parlarne nella biografia proprio perché chi l'ha scritta non voleva partecipare a questa propaganda che riguardava bitcoin o dogecoin quindi la mia ipotesi è semplicemente questa il masco non ha comunque un ruolo importante all'interno del settore cripto se non per quanto riguarda la comunicazione lui ha fatto sempre solo quello praticamente siamo sull'orlo di una crisi finanziaria mondiale come il 2008 allora io ho letto non è che non è che io sia un esperto di queste cose però ho letto che sì siamo sull'orlo di una possibile crisi finanziaria forse mondiale ma non come nel 2008 questa è l'ipotesi che circola l'ho letta diverse volte da diverse fonti attendibili non mi ricordo più però quali sono quindi potrebbe esserci una crisi ma potrebbe essere diversa da quella del 2008 il tenente presente che la fed ha già dimostrato proprio negli ultimi anni fin dal 2020 di essere pronta a intervenire di essere brava a fare interventi efficaci nel 2008 non fu così ci vuole un po' quindi io credo che sia possibile questa ipotesi cioè che se ci sarà una nuova crisi finanziaria potrebbe anche esserci non sarà come quella del 2008 volevo sapere se come secondo te si può evitare di avere migliaia di cripto non si può niente da fare perché sono decentralizzati chiunque può crearsi un token una criptovaluta chiunque veramente chiunque e costa anche poco ormai ci sono dei servizi online che ti permettono di creare un token con 50 euro e quindi non si può mi spiace come lo vedi il nuovo bolle di binance per il web 3 non lo so sono un po' dubbioso sono un po' dubbioso perché io non vorrei che il web 3 sia stato un trend del 2021 e sia passato lo so che può sembrare strano per come dice al web 3 è la nuova versione del web arriverà eccetera io temo che il web 3 sia diverso sarà diverso da quello che ci è stato propagandato fino ad oggi quindi io temo che il web 3 come l'hanno propagandato nel 2021 fosse comunicazione propaganda il vero web 3 sarà differente secondo me non mi stupirei che un ruolo importante all'interno del web 3 lo avesse light in network cioè il layer 2 di bitcoin o il layer 2 di ethereum arbitrum optimism eccetera quindi io non sono dell'idea perché il nuovo il volete binance per il web 3 è fatto per il web 3 così come ce l'hanno propagandato nel 2021 ok non per quello che forse sarà anche perché nessuno lo sa realmente come sarà quindi io ho i miei dubbi anche perché comunque binance c'è già trust wallet che non è per specifico per il web 3 ma è specifico per le criptovalute e supporta diverse reti quindi non lo so sono un po' dubbioso potrei chiederti la fonte secondo cui dai non è una stable fisicalmente rilevante quando si andrà a convertire bitcoin stable coin è un'interpretazione è un'interpretazione la fonte sono i commercialisti che io ho avuto come sponsor lo hanno detto diverse volte nei miei video quindi criptovalute loro sostengono che ma ha perfettamente senso ok nella legge c'è scritto che è un evento fiscalmente rilevante la vendita di criptovalute in token che sono i money e per essere i money devono essere collateralizzate in valuta fiat dai non è collateralizzata in valuta fiat dai è collateralizzata in bitcoin ed ethereum quindi vendere ethereum per incassare dai significa vendere ethereum per incassare una stable coin collateralizzata in ethereum ok quindi interpretando alla lettera la legge italiana emerge che dai non è un i money token e quindi non vi sarebbe un evento fiscalmente rilevante oltretutto dai non è emessa o gestita da un ente che rientra in quelli che per legge per la legge italiana sono riconosciuti come emittenti o gestori di i money e i money token perché dai è uno è gestito emesso da uno smart contract che è un software decentralizzato e quindi in effetti sembrerebbe non esserci anche questo solana anche non so che cosa che cosa tu ti stia riferendo di domande ne abbiamo un bel po facciamo un'ora alla fine consiglio di non riesco mai pronunciarlo dei file lama per sniperare troppo in lancio sia anche io consiglio dei file lama moltissimo sono due che dei file l la ma io non so come si pronuncia mai saputo dei file lama punto org mi sembra qualcosa del genere secondo te è un buon momento per acquistare alt da vendere poi all'apice del prossimo bull market no questa domanda non posso rispondere perché questo sarebbe un consiglio su investimenti io non posso darlo mi spiace proprio cioè non sono un consulente finanziario se lo se rispondessi questa domanda commetterei un illecito io non non me la sento a proposito degli airdrop di solana se le tengo solo solo su exchange mi daranno anche non le cripto i token sì in teoria sì nel senso che se l'exchange supporta quella ridrop perché non è detto che tutti gli exchange supportino tutti gli airdrop ma se l'exchange su cui tu hai solo supporta quella il drop l'exchange ti darà quei token perché comunque quei token vengono dati all'exchange e l'exchange dovrebbe darli a te però non è detto perché non tutti gli exchange supportano tutti gli airdrop quindi ogni volta deve andare a verificare se invece hai i sold sul tuo wallet non custodia ricevi tutti gli airdrop sempre però magari non li puoi usare subito i token quindi su exchange è più veloce ma non è sicuro al 100 per cento a meno che lezione non abbia detto che sicuramente lo fa invece su vostre non custodia c'è sicuro al 100 per cento ma non è detto che ti arrivino immediatamente se è vero che il bottom del bear market è sempre attorno al top della bull run del ciclo precedente e se consideriamo che il prossimo bear market toccherà il bottom attorno ai 60 70 mila dollari questa è una tua ipotesi che il 20 per cento del top il prossimo th dovrebbe il prossimo massimo storico dovrebbe arrivare a 300 mila dollari come la vedi ipotesi plausibile io non me la sentirei di dire che 300 mila è la previsione ok potrebbe essere 100 mila potrebbe essere 200 mila magari potrebbe anche essere che non riesce a superare il massimo dei 70 mila dollari però questa è un'ipotesi assolutamente plausibile non per il motivo che hai detto tu però cioè secondo me il vero motivo è che l'effetto dell'alving potrebbe creare sommato agli etf una scarsità di offerta unita ad un aumento della domanda e quindi i 300 mila dollari sono possibili e tanto plan b dice 500 mila che secondo me 300 mila è tanto 300 mila significa praticamente quasi per 5 rispetto ai precedenti massimi anche se secondo me il punto di riferimento non è tanto il 70 mila dollari raggiunto effettivamente ma i 100 mila che non sono stati raggiunti sarebbe un per 3 e avrebbe perfettamente senso secondo 3 il trend degli nft è finito secondo me no riappariranno ma credo in forma diversa perché gli nft sono una tecnologia molto interessante c'è stata la bolla io non mi aspetto un'altra bolla così grossa degli nft probabilmente ce ne sarà un'altra magari non sarà così grossa soprattutto in percentuale ma io non credo che il trend degli nft sia finito io credo che tornerà magari più piccolo di prima dove posso trovare la pagina che fa rimento il progetto hondo e hondo è corretto non me lo ricordo però provo a cercare hondo rva su google lo trovo secondo me con il wallet ancorato all'exchange non ti danno neanche la seed phrase mi sembra un po' una via di mezzo anche perché per accedere devi comunque passare da binance non hai un'app a parte ecco anche secondo me in questo wallet web 3 di binance comunque devi passare per binance e non è non e non custodia non è binance si riserva il diritto di limitare o bloccare le operazioni qui non è che sia proprio sta gran cosa eh cioè stiamo parlando di un di un wallet che non è come trust wallet ok anche perché è diverso perché è fatto per il web 3 quindi anch'io ho questi dubbi coinbase è affidabile ma io direi di sì me la sento di dire di sì è un'azienda quotata in borsa se hanno problemi fanno un danno clamoroso eh non è un caso che quasi la maggior parte degli etf abbiano scelto coinbase come custody come custodie dei dei bitcoin cioè non bel croc non tiene i bitcoin infideliti non tiene il bitcoin ma nemmeno i rischie li lasciano tutti a coinbase coinbase credo che sia in assoluto uno degli exchange più affidabili nel mondo se non il più affidabile al mondo però costa eh quindi fate attenzione eh ho vari portafogli di bitcoin come faccio a spostarli su Ledger senza pagare troppe fees non si può perché Ledger non supporta ancora l'IT network l'unico sarebbe usare l'IT network ma niente da fare no mi spiace non so non so rispondere ma non credo che ci sia risposta previsione per chrome allora io non faccio previsioni però eh crypto comma ragazzi è interessante cioè bisogna dirlo non so l'ha resistito molto bene nel 2022 si è risollevato molto bene il 2023 ma sta andando avanti io lo vedo bene eh crypto.com ok però credo che abbia un valore che dipende da crypto.com quindi io sono abbastanza ottimista ripeto sull'exchange ok poi questo dovrebbe eh riflettersi sul valore della della loro cripto valuta non ho mai dichiarato le mie cripte ho fatto così tanti passaggi che non so più so più il prezzo medio come posso fare per la dichiarazione guarda c'è un sistema ma devi farti aiutare perché ehm è complicato è davvero davvero complicato io quando ho spittato eh il mio sposo Crypt and Co l'hanno detto tante volte guardate che è un casino e poi se non sai più eh non sai risalire i prezzi l'unico sistema è andare a farsi fare una una dichiarazione da un perito che dice qual è il prezzo e quindi devi farti aiutare da solo io te lo ti sconsiglio vivamente da fare da solo perché probabilmente qualche errore è facilissimo troppo facile fare che differenza c'è tra un wallet DeFi e uno Web3 no attenzione i wallet DeFi non esistono esistono i wallet non custodial cioè wallet che tu puoi usare collegandoli a dei ehm degli smart contract DeFi ok i wallet Web3 sono qualche cosa di simile ma non si collegano agli smart contract della DeFi ma si collegano agli smart contract Web3 il fatto è che Web3 è un termine con cui si intende non solo smart contract centralizzati ma anche servizi decentralizzati ma anche servizi centralizzati basati su ehm blockchain eh tant'è che il wallet Web3 di Binance non è completamente decentralizzato quindi è una cosa un po' eh diversa ehm io continuo a consigliare i wallet non custodial quindi meglio trust wallet del wallet Web3 di Binance certo con il wall con trust wallet o altri wallet non custodial alcuni collegamenti con alcuni servizi alcuni siti web Web3 magari non ci sono ok semplicemente eh avete un utilizzo limitato però se voi ad esempio non interessano eh i vari eh siti web Web3 e potete non usare poi c'è sempre Metamask che si collega a un siti web quindi eh ecco eh come vedi Injective eh io non ho ancora approfondito prima o poi approfondirò va bene ehm siamo in chiusura che adesso faccio ancora qualche domanda poi boh eh avevo capito che Pass Gold fosse una stable ma ora che sto guardando il grafico Pass Gold su Binance che ho capito male nel senso che non è stabile il prezzo di Pass Gold no attenzione attenzione eh qua bisogna fare una una precisazione perché è molto importante con stable coin si intende un token che ha un valore stabile rispetto a un collaterale o o a un riferimento quindi Pax Gold è una stable coin non perché ha un valore stabile in euro o in dollari ma perché ha un valore stabile in oro solo che il valore dell'oro in euro e in dollari cambia quindi il valore di Pax Gold è stabile nei confronti dell'oro ma non stabile nei confronti delle valute fiat come ehm dollari e euro però si definisce stable coin anche se il suo valore in fiat non è stabile ok è solo una questione di definizioni è vero crea confusione forse sarebbe meglio usare il termine stable coin solo per quelle cripto valute che sono collateralizzate in fiat se però avete una stable coin che è collateralizzata in peso argentini non è stabile ok oppure in lire turche non è stabile eh quindi alla fine gira rigira eh perché ci sono delle delle valute fiat che non hanno valore stabile ok eh sono in Argentina cosa è successo a Bologna che hanno utilizzato mascherine di Milei non lo so non mi spiace non non ho letto questa cosa eh c'è da dire che io te lo te lo dico dall'Italia non è che Milei in Italia sia visto tanto bene voi in Argentina ha vinto le elezioni quindi ovviamente ha consensi in Italia invece credo che di consensi ne abbia molto pochi ma permettimi permettetemi una piccola eh digressione Milei è un liberale liberista per esempio più liberista che liberale comunque eh in Italia il liberismo è visto come eh come dire come il diavolo sia da destra che da sinistra e a volte anche dal centro quindi ovvio che Milei in Italia non piace perché in Italia purtroppo siamo troppo poco liberali e troppo poco liberisti chiuso apparente io sono un liberale come avete detto ehm narrativa eh RWA quali sono le cripto da attenzionare eh no non non vi so ancora dare una risposta Ondo però è uno di quei progetti RWA da a su cui fare attenzione eh allora ogni volta che il movimento il wallet mi arrivano decine di NFD truffaldini possibile che non si possa evitare questa recezione indesiderata no l'unico sistema è cercare in qualche modo di nasconderli purtroppo lo so è una bruttissima cosa cioè non è pericolosa ma fastidio anche anche a me personalmente da fastidio visto che eh non puoi dare consigli tu hai Cardano il tuo portafoglio no io Ada non l'ho mai trattato ehm io sinceramente non holderei Ada ma è una cosa mia personale che eh c'è uno youtuber che analizza quotidianamente regolarmente il mercato italiano europei prima della sua apertura non me ne viene in mente nessuno prima dell'apertura del del collo europeo quindi vuol dire praticamente la mattina presto cioè al prima delle nove di mattina no non me ne viene in mente nessuno eh secondo te grandi chain come Ethereum e Solana potranno diventare paracene su Polkadot ragazzi questo è quello che dovrebbe essere cioè Polkadot dovrebbe un domani riuscire a integrare come paracene paracene sono delle chain che interagiscono tra di loro all'interno di Polkadot ma senza essere delle chain di Polkadot ok e dovrebbero integrare Ethereum Solana non so non so solo Bitcoin non lo so e però per ora non lo hanno fatto per carità Ethereum ha avuto il passaggio il proof of stake l'anno scorso e quindi il no nel 2022 e quindi magari era difficile però io inizio a essere un po' scettico sulla capacità di Polkadot di arrivare al dunque cioè di arrivare a integrare le altre blockchain come paracene in modo a farle comunicare tra di loro ultime due domande poi abbiamo finito perché altrimenti abbiamo sforato un'ora Rabi Wallet o il nuovo wallet di Coinbase sono buoni? Rabi Wallet non lo conosco il nuovo wallet di Coinbase io non sono un grande sostenitore del wallet di Coinbase quindi preferisco Trust Wallet ultima domanda quali sono gli exchange migliori per depositare tolto Binance come privacy e accesso a token io in questo momento sto consigliando Kraken Kraken esiste da parecchio tempo funziona bene in passato ha avuto qualche problema poi non li ha più avuti Kraken ha un ottimo rapporto con gli euro quindi è davvero comodo per quanto riguarda gli euro poi il problema del deposito degli euro sugli exchange viene dato dalle banche italiane ok quindi però Kraken va benissimo per quanto riguarda gli euro c'è anche Bitpanda che è europeo ed è austriaco quindi non dà nessunissimo problema in Italia c'è Young comunque Young Platform che sempre per quanto riguarda gli euro non dà nessunissimo problema mi sento di consigliarlo e poi altri vediamo allora c'è sempre Coinbase per quanto riguarda esempio io ammetto che uso Coinbase per una cosa una sola cosa perché Coinbase ha delle fie altissime ovvero per incassare euro su Paypal perché con Coinbase praticamente una volta che avete collegato il vostro Paypal fate con un click trasferite gli euro istantaneamente da Coinbase a Paypal quindi se voi ricevete eh criptovalute che ne sono stablecoin le mettete su Coinbase potete venderle e incassare euro su Paypal nel giro di venti secondi trenta secondi è davvero eh eccellente però i costi sono elevati e quindi fate attenzione perché su Coinbase costa tutto quindi andateci piano però per gli euro è decisamente uno dei migliori Kraken è meglio solo che Kraken non puoi io lo uso per mettere su Paypal ok mentre invece perché pago tutto con Paypal ma con 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 Kraken no un domani che anche in Italia Paypal avrà eh integrato il wallet cripto eh io non userò più Coinbase li metterò direttamente lì e tanto piacere benissimo direi che abbiamo finito allora noi ci vediamo martedì prossimo alle sei di sera per eh replicare questa questo format quindi non domani non il ventitré ma il trenta e poi ovviamente giovedì alle venti e trenta come invece la solita sessione eh serale per chi non può connettersi il pomeriggio. Eh ci rivediamo un saluto ciao ciao